Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aumentare così gli FPS direttamente su Icarus, un gioco survival PvE. Quindi in questo caso come puoi vedere in alto a sinistra gli FPS quelli sono migliorando, ottimizzando un po' le prestazioni sul gioco e cambiando anche vari settaggi su Icarus sono riuscite ad ottenere fino ad un massimo di 100 FPS. Quindi andiamo direttamente sulle impostazioni grafiche, come schermo mettiamo quello schermo senza bordi, quindi metti questo qua, il V-syncro disattivi, il frame limit lo metti al massimo, copri così queste impostazioni grafiche che tengo, se provo a mettere così il campo visivo si vede in questo modo aumentando un po' di FPS però il gioco si vede veramente malissimo. Quindi su settings da 170 puoi impostarlo su 100 che veramente su 90 è anche molto comodo, più che rilassante è anche molto bello, quindi io mi trovo meglio con un 100 dei 115. Quindi questo lo lascia così, il gamma lo metti su 2.5, scendiamo fino a giù e passiamo alle impostazioni grafiche, mettiamo tutto personalizzato. Ora la distanza visiva metti medio, 2.5, passo, qua metti medio sulle ombre, inserisci il 2, qua metti tutto off, la texture metti quella alta, 4, quindi 4,5 mila, quindi 4.500, selezioni là, metti tutto medio e qua imposti off. Scendendo sempre più giù c'è Nvidia reflex, questo è anche importante, metti on più boost e la qualità io ho messo le FSR mod qualità 1.00 e mi trovo abbastanza bene. E quindi sono riuscito a portarlo fino a 100 fps Icarus, più facendo anche un'altra cosa, quindi un altro trucchetto direttamente su MSI Afterburner. Ovviamente ti sconsiglio di fare questa cosa per quelli che non hanno la mia scheda video 1660 Super, un processore Azen 5 3600 e 32 GB di RAM. Ovviamente farò un overclock sulla mia scheda video, mi sono informato, quindi ho fatto delle ricerche e quindi il miglior overclock che sono riuscito a mettere, a mettere qui su core clock, ho messo il trattino 202, l'ho impostato su 925 e da 925 l'ho portato fino a 1970 e poi ho messo applica. Quindi ti faccio vedere meglio come funziona. Quindi io ti consiglio di trovare il tuo overclock per la tua scheda video, io sto facendo quello della mia 1660 Super, quindi prendo il 925 e lo metto su 1970 e faccio applica. E sul memory clock lo lascio sui 421, aumentando ancora di più gli FPS su Icarus. Consumando però ancora di più la scheda video, però ho migliorato le prestazioni sul gioco. Ovviamente gli sviluppatori hanno anche ottimizzato il gioco, io ho iniziato a giocarci quando è uscito e laggava veramente moltissimo. E nel tempo il gioco è stato ottimizzato, veramente una meraviglia. Quindi se hai altri problemi, commenta sotto al video. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!